L'anno e mezzo abbiamo avviato con il gruppo Alpini e la parrocchia questo percorso che ha portato finalmente a una riqualificazione, direi con ottimi risultati, della chiesina della Madonna della Neve, una riqualificazione come vedete sia delle facciate dell'area esterna sia soprattutto degli affreschi interni che sono stati grazie all'opera di una restauratrice integralmente di nazifascisti nel comune di Premano e allora abbiamo voluto unire questo momento a difesa della ripetizione con il ricordo di questa figura invitando anche i parenti di Guglielmo, che è nato, qui in fianco a me la sorella, c'è un'altra sorella e il fratello Ambrogio che ha 92 anni, qui farei un bell'applauso, 93, un bell'applauso. Caro mio zio che mi ho mai visto, zio Guglielmo che ho mai conosciuto se noi fotografia in del cimitero un sito che è troppo serio, un sito che è troppo triste per ricordare giù in vinti anni venduti da qui che sarei venduti a tanti miseri. Quanti vuoi però di te la parlare alla mia mamma? Quanto a quinta su pregante della tua morte combatente? Perché l'è mai perdente? Perché l'ha mai sbagliata? Chi lascia ai suoi bagai qualcosa in più della memoria di quei buf dei venti? Caro mio zio Guglielmo, sui montagna ti ascoltate i nostri bus dopo 70 e passando da quel tragico momento là. Non dovremmo vorremmo essere un uomo che in Ucrania, che ansi beate, lascia nuque erete tanta sostanza che si chiama libertà. Grazie. 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 Grazie.